Cinque gol convalidati, due annullati, recriminazioni da ambo i lati e tanto spettacolo in campo e sulle tribune. Ha vinto il team Altamura 3-2 e ora comanda il girone. Assieme alla Zeta Picerno confermatasi squadra di assoluto valore. A siglare l'1-0 per l'Altamura, Ferrante. Rete convalidata malgrado la segnalazione di una spinta su Fiumara da parte di un assistente. Il pareggio arriva al minuto quarantaquattresimo con Santaniello al posto giusto nel momento giusto sulla Serpentina con assist di Esposito. Nella spettacolare ripresa il team Altamura trova il nuovo allungo al nono con Gagliardi su una rasoiata di Lionetti e il Tris con Palazzo al ventiduesimo. Al quarantatresimo arriva il gol del 2-3 con un colpo di petto di Tedesco dopo un cross di Esposito e una sponda di Conte. Al prossimo episodio